Ciao a tutti, tredicesimo giorno, quindi tredicesima casellina, tredicesimo video speriamo di trovare come dicevo il pezzo sotto del nostro costumino quindi andiamo subito a vedere forse si è una gonnellina nera è un nero strano ma molto molto bello lo andiamo subito a provare ed eccola qui, non so se questo sia il davanti o questo ma è più carina così, quindi la lasceremo così molto carina, un affitto un po' strano però è molto molto bella vediamo domani se troveremo le scarpette un bacio a domani, ciao!